Buongiorno, come va signora, tutto bene? Benissimo, adesso subito la visita, mi scusi, questo mettiamo qua, non serve adesso, dunque, i guanti, i guanti, sono di grassi, la metto a suo agio signora, allora, questa è a sinistra, sono un po' strettini quanti, io, diciamo che, preferisco non mettere in mangiare questo caso, siccome la dobbiamo si dare, meglio essere prudenti e quindi evitare eventuali contagi, infezioni, eccetera, 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 bene, siamo pronti? Lei è passata? Signora, sta bene? Sì, sto bene, sì, incominciamo, sono un po' legati secco, sì, oh, no, 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 no non capisco l'imbarazzo, potrebbe capitare che durante una visita ginecologica così si sia un po' eccitati. Dottore? Sì. Ma io non sono eccitata. Sì signora, quelle eccitate sono io, la prima cosa. Vabbè, comunque, non è un problema, stia tranquilla signora. Stia tranquilla, si rilassi. Dottore, dottore, dottore. Dottore, fai il professionista, io, dicevo. Quindi stavo dicendo, ma no. Il problema è sacralizzata signora, io sono un ginecologo. Purtroppo non ci si abitua quasi mai a vedere quella cosa. Comunque tutto a posto signora, va bene? Adesso facciamo subito una lavanda. e tu vai prendere un po' di apprezzi bene, rimanga qui. Io torno subito, va bene signora? Comunque lei sta benissimo signora, è perfetta. Le posso garantire che è tutto a posto. Ma c'è da preoccupare. No, che preoccupare? No, non lo so. Stia... 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 Stia...